Pisa, Aikido, Krav Maga, Jiu Jitsu, Kali Filippino, Brazilian Jiu Jitsu e numerose altre discipline di arti marziali si sono alternate sul tatami allestito la scorsa settimana al centro coni di Tirrenia per la tre giorni di studio, allenamento e stash sulle arti marziali organizzata dal Comitato Provinciale dell'Axi. Oltre cento tra praticanti, appassionati e curiosi hanno partecipato all'iniziativa, che ha visto alternarsi ospiti nazionali ed internazionali e docenti di varie discipline. Tra loro anche i maestri Livio Cesare Proia da Norcia, Rogerio Legario dal Brasile, Andrea Rollo da Roma, Manuel Herrera dalle Filippine, Giacomo Tadei da Livorno, Giancarlo Bagnulo da Roma e Salvatore Ciulla e Massimiliano Perini della Commissione Tecnica Axi di Aikido. Grazie a tutti.